In questo video parliamo di due caratteristiche del linguaggio python che sono molto molto utili per produrre codice di qualità molto chiaro e leggibile quindi nonostante il fatto non siano strettamente necessarie, cioè si può programmare anche senza utilizzarle è assolutamente consigliabile imparare bene ad utilizzarle perché fanno proprio parte del modo di scrivere codice python di qualità ora la prima è l'unpacking e sostanzialmente consiste nella possibilità di scorporare gli elementi che sono stati precedentemente impacchettati dentro un contenitore dentro un container di qualche tipo vi faccio un esempio, qua definiamo my list uguale a una lista con tre valori questa è la fase che convenzionalmente viene chiamata packing, cioè ho tre valori che vengono impacchettati in un unico contenitore ogni qualvolta python si rende conto che il contenitore è composto da appunto più entità e un contenitore si offre la possibilità di scrivere qualcosa di questo tipo quindi di suddividerlo a sinistra dell'operatore nei suoi componenti quindi posso assegnare ad esempio a tre variabili x, y e z rispettivamente il valore di 7, 9 e 11 quindi molto comoda l'utilizzo più largo, più frequente che si fa di questa caratteristica è nei cicli immaginate ad esempio di voler scorrere una struttura dati fatta in questo modo questa è una lista di tuple dove ogni tuple potrebbe rappresentare apparentemente una persona con i suoi risultati in vari esami, in due esami in particolare quindi Ashley ha preso 28 e 27, Brad 23 e 26 e così via se scrivo un ciclo for in questo modo in cui utilizzo la variabile entry per scorrere su tutta la struttura dati l'output che ottengo è questo cioè ad ogni iterazione il riferimento entry viene associato all'intera tupla, all'iesima tupla che viene scorsa quindi ottengo tutti e tre i valori insieme se però mi interessasse utilizzare i valori scorporati quindi avere immediatamente la possibilità di avere il nome separato dai risultati dei due esami posso utilizzare l'unpacking scrivendo una cosa di questo genere quindi posso scorrere name, grade 1 e grade 2 in grades l'iesimo elemento è un elemento l'iesimo elemento di grades è un elemento composto in questo caso da tre sotto elementi e questi tre sotto elementi vengono spacchettati sui tre riferimenti e quindi senza bisogno di utilizzare la notazione con le parentesi quadre dentro il ciclo per recuperare i singoli elementi posso già averli spacchettati qui all'interno nell'intestazione del ciclo quindi vedete che qua posso già facilmente separare il nome dai due voti stampandoli direttamente con una print come separati quindi molto molto comodo questo strumento dell'unpacking il secondo strumento che invece guardiamo è l'enumerazione si tratta di una funzione built in python che si chiama enumerate e nasce dal fatto, probabilmente l'avete notato che python ha completamente abbandonato la nozione del for tradizionale stile c per intenderci in cui viene inizializzato un tipicamente un contatore interno dell'interazione del ciclo e viene utilizzato come indice per accedere alla struttura dati tipicamente al vettore o alla lista che vogliamo scorrere quindi questa mancanza ha apportato lo sviluppo di questo operatore che cosa fa questo operatore? lo vediamo qua io parto da una lista di string e dico che questo oggetto E è l'enumerazione di questa lista di string se gli chiedo di che tipo è l'oggetto E mi dice che è un oggetto di tipo enumerate quindi è un enumeratore se lo trasformo in lista e lo stampo ottengo questo e capite immediatamente che cosa fa enumerate enumerate prende un container, isola tutti gli elementi del container e li trasforma in tuple dove ogni tupla contiene al primo posto l'indice che quel particolare elemento ha dentro il container e al secondo posto ha il valore iniziale quindi otteniamo 0 Nicola, 1 Rimac, 2 Polestar e questo è molto comodo perché possiamo scorrere ad esempio una lista avendo a disposizione sia il suo contenuto sia l'indice in cui si trova quel contenuto di fatto rendendo superfluo la necessità di utilizzare un ciclo su un indice quindi risolve il problema prodotto dalla scelta iniziale di eliminare il for classico ecco vedete questo esempio, giusto un esempio per farvi vedere quanto si semplifica il codice utilizzando o non utilizzando enumerate questa è la versione senza enumerazione e questa è la versione con enumerazione se contate le linee, stesso output, stessa funzionalità, stesso tutto è significativamente più breve questo codice è 3, 6, 7 linee, questo codice è 5 linee quindi una riduzione di quasi il 40%-35% del codice questo ad esempio è un esempio in cui vogliamo scorrere un oggetto iterabile e tenere traccia degli indici in cui è contenuto l'elemento none quindi cosa ci serve? ci servirà una lista in cui tenere gli indici il famoso contatore per tenere traccia della posizione mano a mano che ci spostiamo lungo la struttura dati un for per scorrere la struttura dati diciamo c'è un if che determina se l'item è none quello che cerchiamo aggiungiamo alla nostra lista di indici l'indice corrente e incrementiamo l'indice corrente la versione con l'enumerazione invece possiamo scorrere direttamente la versione enumerata della stessa struttura dati vedete questa è identica a questa ma l'abbiamo enumerata quindi abbiamo immediatamente a disposizione sia l'item stesso quello che qua era questo sia un contatore che però non abbiamo più bisogno di gestire noi creare e incrementare e resta soltanto l'if sostanzialmente se l'item è none salva sulla lista degli indici l'indice corrente prodotto dall'enumeratore stesso